Bentornati sul canale di Non Aprite Questo Blog Io sono il Gons e oggi siamo qua a fare un veloce unboxing di alcune cose che mi sono arrivate da Weird Book Ecco il pacchettino Intanto per chi non sapesse weird significa strano E se ci pensate alla fine tutti noi che amiamo il genere horror veniamo un po' considerati strani Comunque Weird Book è una casa editrice veramente interessante, che fa cose veramente belle e che io avevo notato da un po' Ho avuto modo di conoscerli grazie a due dei redattori di Non Aprite Questo Blog che sono Emanuele Crivello e Anna Silvio Armenise che hanno scritto un libro pubblicato da Weird Book Ma arriviamoci con calma Innanzitutto mi hanno mandato tre cose Il libro di Emanuele e Anna un fumetto sempre legato al mondo dell'horror e un libro che cade a pennello perché lo scoprirete tra poco Partiamo subito con Evil Dead Emanuele Crivello e Anna Silvio Armenise Allora, vi dicevo, sono due redattori di Non Aprite Questo Blog ma non solo comunque Emanuele è il gestore e fondatore di Evil Dead Italia e Anna Silvio Armenise scrive anche su tantissimi altri blog scrive libri, scrive cose insomma non li ho scoperti io diciamo semplicemente sono persone talmente inserite nel mondo dell'horror talmente appassionate che il fatto che io, fondatore di Non Aprite Questo Blog e loro ci incontrassimo era abbastanza inevitabile parliamo del libro di questi due baldigiovani Evil Dead Un viaggio nel regno del male eccolo qua non l'ho ancora letto ho letto due o tre pagine allora vi parlo di Emanuele Crivello Emanuele Crivello è la persona io lo dico sempre senza paura poi lui è modesto magari non vuole che io lo dica ma per me è la persona più esperta in Italia riguardo al mondo di Evil Dead e penso che questo valga anche per Anna Silvia perché ha scritto il libro con lui so che Anna Silvia è una grande esperta di cultura horror letteratura horror e anche di questi cult nonostante siano giovani sono persone molto documentate sul cinema horror anni 80 insomma quello che è stato l'epoca d'oro del cinema horror Evil Dead è stato il film che personalmente ha scatenato la scintilla per poi amare tutto il genere non è il mio film preferito ma è tra i miei film preferiti eccolo qua in Blu-ray io in realtà sono molto più appassionato di Romero e tutto un altro genere di cose però comunque ci stiamo parlando di Evil Dead la casa che comunque ha gli zombie che sono tra i miei diciamo villain preferiti zombie sono zombie demoni quelli della casa sono i Dead Hites i cosiddetti Dead Hites tutto questo per dirvi che sia Emanuele che Anna hanno una cultura di questo film pazzesca sono due malati due malati di horror il libro è ricco di tutta una serie di anedoti incredibili solo all'inizio per esempio ti spiega come hanno fatto il sangue usando non ve lo dico ve lo comprate come hanno fatto il sangue tutta una serie di anedoti su quanto fosse complicato levarselo di dosso commenti da parte di Bruce Campbell quindi vi consiglio assolutamente di comprare questo libro questi sono veramente 23 euro spesi benissimo lo sponsorizzo perché ho letto solo tre pagine ho già capito il contenuto il contenuto è un'infinità di chicche un'infinità di secondo me questo libro è veramente un patrimonio per chi ama questa saga l'apprezza e vuole conoscerla a 360 gradi leggetelo e poi fate vedere che sapete tutto 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 di Ash vs. Civil Dead fate i fighi e poi consigliate il libro anche ai vostri amici poi rimanendo sempre sul tema Evil Dead i fantastici ragazzi di Weird Book hanno pubblicato questa roba stra-fi-ga ma bastro cioè forse l'ambulanza capito c'è uno che sta male fai rumore no qualche cretino che si mette a suonare no ragazzi no 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 non è il Necronomicon anche se sembra è l'edizione con la copertina stile Necronomicon del fumetto Evil Dead morte oltre l'alba c'è in due versioni questo fumetto qua questa secondo me è la più bella risponde loro qualche pagina aperta a caso per farvi capire un po' lo stile praticamente l'ho iniziato devo finirlo è uno spin off con protagonista Ash ovviamente e anche la figlia del dottore che faceva le ricerche sul Necronomicon che c'è nel film quindi vediamo come si chiama per chi non mi ricordo il professor Raymond Knobie una storia spin off della figlia come protagonista insieme a Ash finiscono in un bel casino sempre legato al mondo dei demoni è carino per andare a ampliare diciamo la vostra conoscenza dell'universo Evil Dead perché alla fine è un universo tra l'altro essendosi conclusa definitivamente la carriera di Bruce Campbell col mondo di Evil Dead perché lui ha dichiarato che non interpreterà più Ash Williams i fumetti ormai sono rimasti l'unico medium per continuare la saga o fare degli spin off andare a approfondire un po' la storia oppure probabilmente dei videogiochi potrebbero essere adesso io non sono espertissimo se ci sono dei videogiochi però comunque niente di memorabile perché sennò lo ricorderete poi vi metto tutti i link per comprare sia il fumetto che il libro abbiamo e questa sembra quasi una coincidenza ma vi assicuro che cioè questa è una coincidenza non è una cosa voluta anche perché le due realtà non è che non penso che si conosca non si parlino da poco è venuta fuori la notizia che Midnight Factory uscirà per la collana Midnight Classic con praticamente tutti gli episodi di Fantas e guarda caso la Weirbook ha pubblicato un fantastico libro che riguarda proprio questa saga qua quindi scritto da un bel po' di gente tra cui Luigi Boccia che ringrazio per avermi mandato tutto questo materiale loro sono una realtà fighissima poi ve ne parlo dopo insomma scritto da Luigi Boccia Lorenzo Ricciardi Giada Cecchinelli Fabio Giovannini Nicola Lombardi insomma Fantas l'universo di Talman anche di questo vi metterò il link in descrizione per comprarlo c'è un bel po' di roba dentro sono anche foto ah qua c'è un'illustrazione vediamo se riesco a farvi vedere dentro ci sono interviste a Don Cosciarelli Reggie Bannister Gigi Bannister e David Hartman non so ancora se l'edizione della Midnight Classic avrà cosa avrà se saranno doppiati non doppiati tutti i film in che modo HD non HD riversati eccetera eccetera lo scopriremo solo vivendo nel frattempo potete comprare questo fantastico libro insomma documentarvi un po' su questa saga questa è veramente l'occasione sia per l'uscita della Midnight che per il libro l'occasione per andare a riscoprire i classiconi detto ciò vi ricordo di iscrivervi al canale mettere like cliccate sulla campanella ragazzi se no non vi arriva la notifica del video va bene questo è tutto vi voglio vi voglio bene tutti quelli che ci seguite vi voglio bene grazie a tutti Grazie a tutti.